Parliamo del regno dei funghi. Di solito, quando pensiamo ad un fungo, ci si forma l'immagine mentale che corrisponde ad un oggetto simile a quello che vediamo in quest'immagine, che rappresenta uno dei più conosciuti e più famosi funghi tossici, ovvero si forma nella nostra mente l'immagine di un oggetto che ha un gambo e che termina con una porzione allargata detta cappello. In realtà quest'idea di fungo è molto riduttiva, perché quello che noi associamo appunto a quest'idea, cioè l'oggetto con il gambo e con il cappello, corrisponde semplicemente ad uno stadio particolare della vita di alcune specie di funghi, ovvero possiamo dire che rappresenta unicamente una struttura riproduttiva che è visibile solo in alcune specie di funghi e soltanto in un determinato periodo dell'anno. In realtà il vero corpo del fungo si trova sottoterra, per gran parte dell'anno non lo vediamo e vedremo tra poco quindi come è fatto il vero corpo sotterraneo del fungo e che vedremo si chiama micelio. Inoltre c'è anche da dire che non tutte le specie di funghi producono strutture di questo tipo, ovvero esistono molte specie appartenenti al regno funghi che non producono corpi fruttiferi, oppure ne producono ma hanno una forma completamente diversa da questa. Vedremo tra un po' una carrellata di immagini con alcuni funghi dal corpo fruttifero a gambo e cappello e altri che hanno corpi fruttiferi di forma completamente diversa. In aggiunta a ciò, come si è detto, molte specie di funghi non producono corpi fruttiferi e addirittura il regno funghi comprende anche delle specie di organismi unicellulari. Perché i funghi si inseriscono in un regno a parte se tradizionalmente sono oggetto di studio della botanica e quindi tradizionalmente sono associati alle piante? Perché in realtà un fungo è un organismo tanto diverso da una pianta quanto lo è da un animale. Innanzitutto i funghi sono tutti eterotrofi, quindi a differenza delle piante non faranno mai la fotosintesi clorofilliana. Anche quelli provvisti di corpo fruttifero, nelle specie diverse appaiono colori diversi, alcuni hanno un corpo fruttifero di colore verde ma quel verde non è mai dovuto alla presenza della clorofilla. Quindi parlando dei regno funghi stiamo parlando del primo regno che incontriamo costituito da organismi tutti eterotrofi. Per questo motivo non li possiamo considerare delle piante, ma non li possiamo considerare neanche animali, in quanto le modalità attraverso cui un fungo si nutre sono completamente diverse rispetto agli animali. Gli animali, come vedremo, hanno un'apertura del corpo verso l'esterno, che chiameremo bocca, attraverso cui ingeriscono il cibo. Viceversa i funghi assorbono materiale che digeriscono fuori del loro corpo, nel senso che come vedremo attraverso la loro ampia superficie sotterranea emettono all'esterno dei liquidi digestivi con cui digeriscono qualunque tipo di materiale organico, addirittura alcuni sono in grado di intrappolare dei piccoli animali che vivono nel sottosuolo, quindi alcuni sono veramente carnivori, però la digestione avviene tramite questi liquidi fuori dal loro corpo, dopodiché assorbono all'interno delle loro cellule i materiali digeriti. Quindi i funghi, essendo organismi diversissimi sia dalle piante sia dagli animali, sono giustamente collocati in un regno a parte. Quindi, come detto poc'anzi, il vero corpo di un fungo non è la struttura riproduttiva o corpo fruttifero, che può anche non essere presente, ma è molto meno evidente, è sotterraneo e si chiama micelio. Anche in questo, che adesso vedremo in dettaglio, i funghi presentano un tipo di organizzazione del corpo che è caratteristico unicamente di questo regno, quindi che non ha analoghi né nelle piante né negli animali. Infatti il loro vero corpo, come detto, è sotterraneo, prende il nome di micelio. Ricordiamo che il prefisso mico fa riferimento a tutto ciò che riguarda i funghi, quindi lo studioso di funghi si chiama micologo. E il micelio rappresenta proprio l'organizzazione del corpo vegetativo, che come ribadiamo è sotterraneo ed è costituito da un intreccio di filamenti ramificati, visibili soltanto al microscopio, e che si chiamano ife. Quindi il micelio sotterraneo di un fungo, grazie alle sue numerosissime ife sottili e ramificate, può occupare una porzione di terreno molto estesa, generando quindi un'enorme superficie assorbente. I funghi che vivono nel terreno infatti sono assieme ai batteri i principali decompositori di un ecosistema, ed il loro ruolo è molto importante per ciò che riguarda il riciclo della materia organica. Un fungo è in grado di decomporre ed assorbire tramite le sue ife qualunque residuo organico venga a contatto con il suo micelio e lo può poi digerire dentro le sue cellule. E come detto esistono specie di funghi, addirittura carnivore. In quest'immagine vediamo anche un fungo provvisto di corpo fruttifero. Durante la stagione riproduttiva in queste specie di funghi viene appunto prodotto questo organo particolare, che avrà funzione, come detto più volte, riproduttiva. Se però noi andiamo a staccare una porzione di corpo fruttifero, lo spandiamo e lo osserviamo al microscopio, noi vediamo che il corpo fruttifero non è fatto in maniera diversa dal resto del micelio, ma è formato dallo stesso intreccio di ife, solo che mischiate ad esse ci saranno le strutture che producono le spore, le cellule riproduttive. Quindi il corpo fruttifero è formato dalle stesse ife che formano il micelio, però disposte in maniera più compatta. Di conseguenza in un fungo noi non troviamo degli organi veri e propri distinti come troveremo invece nelle piante. Di conseguenza si dice che i funghi hanno un'organizzazione del corpo a tallo. Un tallo è un'organizzazione corporea, tipica degli organismi considerati tradizionalmente vegetali, non distinta in organi veri e propri. Il corpo fruttifero e il micelio, osservati al microscopio, sono fatti allo stesso modo. E in quest'immagine vediamo come si presenta il micelio di un fungo visto al microscopio. Vediamo che il materiale prelevato da un fungo, per poter essere osservato, deve essere disperso molto bene sul vetrino da microscopio, deve essere espanso molto bene, perché le ife formano un intreccio veramente molto intricato e di conseguenza sono difficilmente visibili. Di solito materiale prelevato da funghi non è semplicissimo da osservare e distinguere al microscopio. Questo è presumibilmente prelevato da un corpo fruttifero perché qua e là si vedono le microscopiche spore che costituiscono il principale meccanismo attraverso cui i funghi si riproducono. Parlare della riproduzione dei funghi è qualcosa di molto complesso perché possiamo quasi dire che ogni specie abbia un ciclo vitale a sé e alcune specie di funghi hanno dei cicli vitali veramente molto complessi, con due o tre fasi distinte tra di loro. Quello che però è sicuro, come vedremo tra poco in un'animazione, è che i ritmi riproduttivi dei funghi sono piuttosto elevati e addirittura sono, possiamo dire, proverbiali. Anche limitandoci ai soli funghi che producono corpi fruttiferi, a volte vediamo che bastano le prime piogge autunnali per vederli spuntare per ogni dove da un giorno all'altro, nel corso a volte di una sola notte. Anche funghi che hanno corpi fruttiferi grandi e pesanti. I funghi si riproducono di solito tramite numerosissime e leggerissime spore unicellulari, alcune prodotte dal fungo di partenza per via assessuata, altre invece prodotte da corpi fruttiferi o altre strutture nei funghi che non li hanno, generate dalla fusione di due miceli diversi e in quel caso parliamo di riproduzione sessuata. Di conseguenza entrambi i tipi di riproduzione, assessuata e sessuata, sono presenti e avvengono a ritmi molto elevati, anche in specie diverse di funghi e anche con modalità molto diverse. Questo è un fungo che ha un corpo fruttifero, vediamo che in alcuni generi di funghi che producono questo tipo di struttura, al di sotto del cappello si trova una zona che è divisa in queste sottili lamelle e questa zona si chiama imenio e solitamente è qui che vengono prodotte queste spore leggerissime in quantità molto grande liberate nell'ambiente a miliardi e miliardi che laddove trovano un minimo di umidità germinano producendo nel suolo un micelio. In questo breve filmato vediamo, chiaramente a velocità aumentata artificialmente, bene la rapidità con cui i funghi, i corpi fruttiferi, diciamo questi sono dei prataioli o champignon, emergono dal terreno. Il processo come detto è accelerato ma a volte basta all'arco di una notte per vedere spuntare in gran numero questi corpi fruttiferi. La velocità di riproduzione dei funghi, come detto, è diventata proverbiale. A volte i corpi fruttiferi emergono contenuti in una struttura simile ad un velo che poi viene perforata e rimangono intorno al gambo degli anelli o delle vescicole più chiare, bene, al di sopra del cappello, i quali vengono utilizzati dai cercatori di funghi per individuare le specie. In ogni caso è importante ricordare che non bisogna mai avventurarsi da soli alla ricerca di funghi perché ci possono essere specie commestibili molto simili ad altre tossiche o velenose e quindi soltanto un esperto che abbia seguito un corso e che abbia un particolare patentino rilasciato dall'ASL può, diciamo, è autorizzato a raccogliere funghi in sicurezza. Ecco qui un altro corpo fruttifero. Vediamo una veloce carrellata di funghi a corpo fruttifero partendo da alcuni funghi commestibili o prelibati come i comunissimi porcini. Altri funghi mangerecci molto comuni sono i prataioli o champignon e altre prelibatezze sono costituite dai galletti e dai chiodini o famigliole che spesso formano questi gruppi piuttosto curiosi e compatti di funghi di piccole dimensioni. Andando avanti passiamo ad uno dei generi più celebri di funghi e più conosciuti, cioè il genere Amanita, che è caratterizzato dal corpo fruttifero con questo imenio a lamelle sotto cui si formano le spore e il corpo fruttifero della classica forma e dei classici colori. Bisogna però stare attenti perché nel genere Amanita troviamo delle specie commestibili e prelibate come l'ovolo buono dal caratteristico cappello che ha il colore rosso dell'uovo. Per completezza di informazione questa specie si chiama Amanita cesarea, ma il genere Amanita comprende anche delle specie invece tossiche. Come Amanita muscaria, uno dei funghi più conosciuti possiamo dire che ha queste vescicolette bianche, molto carino da vedere, molto grazioso ma assolutamente da non raccogliere in quanto è tossico. E inoltre nel genere Amanita ci sono anche delle specie mortali, come la temibile Amanita falloides, che ha questo cappello di colore verde, ricordiamo che non c'entra nulla la clorofilla, questa è una specie mortale anche in piccolissime quantità, e un'altra specie mortale del genere Amanita è questa specie dal corpo fruttifero completamente bianco che si chiama Amanita verna, quindi bisogna sempre fare molta attenzione e solo affidarsi ad un esperto. Altri funghi a mensola crescono sui tronchi degli alberi e formano questi raggruppamenti particolari. Questi sono funghi invece di forma grossomodo sferica, sono tra i funghi più grandi e pesanti che esistono, arrivano fino a un peso di 20 kg per corpo fruttifero e anche questi si sviluppano velocemente, può bastare una sola notte per vederli apparire. Altri funghi hanno corpi fruttiferi molto particolari come questi a margherita, questi chiaramente sono dei funghi non commestibili, non si sa neanche se sono tossici ma sicuramente sono molto sgradevoli, però costituiscono delle curiosità per le loro forme e per i loro colori. In questi altri funghi dal corpo fruttifero a margherita vediamo spesso la nuvoletta di spore che si libera. Le spore sono microscopiche ma ci dà un'idea dell'enorme quantità di spore prodotte in pochissimo tempo da un fungo in riproduzione. Altri funghi con questa forma geometrica molto particolare, dall'odore però e di conseguenza dal sapore sgradevolissimo, assolutamente non commestibili. Funghi blu, questi sono dell'oceania se non erro, addirittura fluorescenti, di solito colori molto vivaci però sono indice di non commestibilità. E infine vediamo dei funghi che producono corpi fruttiferi ma che non sono a gambo o a cappello. Bene, quindi abbiamo detto che i corpi fruttiferi possono avere forma molto diversa anche per quanto riguarda i funghi che li producono. In questo caso abbiamo un corpo fruttifero a disco di forma arancione.